Ciao ragazze, buongiorno a tutte e benvenute in un nuovo video. Di nuovo un video spacchettamento, vi giuro che dopo questo ho terminato, ho fatto la scorta di tutto quello che mi serviva. Oggi però vi mostro l'azienda Nile4, ho fatto un ordine da Nile4, mi è arrivato proprio stamattina. Io ho spacchettato per vedere un attimino se ci fosse tutto, però non ho aperto nulla. Quindi andiamo a vedere insieme tutto quello che ho preso. Delle cose veramente interessanti e delle chicchie che secondo me apprezzerete. Anche perché tutti i prodotti che ho preso hanno ottimo prezzo. Allora, io partirei subito dalle cose meno interessanti, ovvero i pad. Ho preso Rotorada 500 pad, non li ho mai presi da Nile4, ma credo che siano tutti la stessa cosa. Vediamo se si sfaldano. Eh sì, vabbè ragazzi, tutti la stessa cosa. Io ormai ho perso le speranze, non trovo più dei pad ottimi. E quindi vabbè, mi servivano, li ho ripresi. Non li ho pagati nemmeno tanto, li ho pagati 4,99 euro, non ricordo. Poi, un'altra scorta che ho voluto prendere, che mi era in realtà terminato, è il cleaner. Ho preso il cleaner di Nile4. Questo l'ho pagato, mi ricordo, 12,99 ed è da un litro. Gli ingredienti sono solo l'alcol di sopropilico, acetone e parfum, 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 profumo. L'ho preso in odore, perché a me non ho poi troppi odori, mi nauseano a lungo andare. Ecco, quindi l'ho preso in odore, non l'ho mai provato, però spero che mi troverò bene, vi farò sapere anche di questo. Allora, passerei ai prodotti che ho preso. Allora, ho preso due costruttori. Mi esco tutto, tra l'altro è arrivato tutto in questo sacchettino carinissimo, richiudibile, che io riutilizzerò tranquillamente per contenere, non lo so, magari quando faccio qualche corso. Questa è comodissima, quindi ottimo. Allora, mi hanno dato, io lo immagino, quindi andiamola ad aprire subito. Forse questa sarà la seconda volta che ordineo da Nile4, quindi in realtà non ho fatto tanti ordini. Allora. Sono dei glitter, a quanto vedo, belli, molto molto belli. Mi piacciono, ragazze, sono dei glitter un po' più spessi, però sono carini, perché arrivano appunto con la sua confezione, con la marca, molto carini. Mi piacciono. Grazie. Allora, poi passiamo. Allora, ho preso le tip a mandorla e mi sono accorta dopo che purtroppo arrivano con il loro logo. Io le preferisco senza logo, anche perché non sono una ragazza monomarca, nel senso che non utilizzo una sola marca, ma utilizzo tante marche. Quindi, quando mi vado a stendere i colori, preferisco non avere una determinata marca, non preferisco avere la tip semplice. Però, comunque, le ho prese perché mi servivano. Le utilizzerò sicuramente, ma ne prenderò altre sicuramente da Shane, così che sono senza logo. E queste le ho pagate sulle 4,99 euro pure. Sono 50 e arrivano con ovviamente il suo anellino. Vedete, 50 tip esposito alla naturale a mandorla. Semplicissime tip ad esposizione. Allora, passiamo a due prodotti. Allora, ho sentito parlare bene. Oddio, no, già l'ho rotto. Vabbè che purtroppo la confezione la devo rimuovere. Ho sentito parlare bene di questi due prodotti. Li ho voluti prendere. Li ho voluti prendere perché, tra l'altro, erano scontati. E, a parte che comunque il prezzo iniziale è veramente irrisorio. Sono due costruttori tistotropici. Sono della linea Luxury, che è una nuova linea che è uscita da Nelford da poco. Più o meno un annetto, forse, non ricordo. Forse anche meno di un anno. Il barattolo è veramente gigante, ma è bellissimo. C'è una qualità del pack pazzesca. Cioè, guardate qui che packaging bellissimi. Una mia collega li ha provati. Mi ha detto che questi costruttori hanno bisogno comunque di strati sottili. Perché, appunto, essendo molto pigmentati, hanno bisogno di polinerizzare abbastanza. Quindi, io ho preso il Builder UV Gel Camouflage Natural, che è una colorazione che mi ispirava tantissimo. Lo andiamo ad aprire proprio insieme. Io è la prima volta che lo vedo. Allora, vediamo un attimo. Eh sì, purtroppo sarà che era messo storto. Quindi, il prodotto si è ribaltato tutto. Perché di solito i tistotropici dove li metti stanno. Quindi non si muovono completamente. Prendo la spatola e vi faccio vedere. Allora, la colorazione è bellissima. C'è una di quelle colorazioni che io amo e adoro. È una crema. Cioè, ragazze, è una crema. È morbidissimo. Veramente morbidissimo. Non lo ripeto, ragazze, non l'ho provato. Quindi lo proverò sicuramente anche insieme a voi in un video qua su YouTube, se vi può interessare. Però a primo impatto mi ispira. Mi ispira tanto, ragazze. Però la colorazione è bellissima. Cioè, è meravigliosa. Bella. E ho preso questa colorazione qui, che è quella un po' più coprente. E poi ho preso la light pink. Perché? Allora, ultimamente sto seguendo molte ragazze che fanno unghie, molte ragazze russe. E loro utilizzano questi costruttori. Molti, ovviamente, fanno molto semi permanente con rinforzo. Loro sono le migliori nel semi con rinforzo. Però utilizzano dei gel abbastanza lattiginosi, rosati, che restano quasi trasparenti. E mi sono innamorata di queste colorazioni. Ora, io dal sito mi è sembrato che si ci potesse avvicinare a una colorazione del genere. Io non l'ho ancora aperto, quindi vediamo un po' insieme che colorazione è. Dal sito mi ispirava tantissimo, quindi ho voluto prenderla. Allora. Eh sì. Bellissimo. Eh sì ragazze, mi sa che la colorazione è proprio lei, quella che cercavo io. Allora, è appunto un, come dice il nome stesso, light pink. Quindi un rosa chiaro, abbastanza, si vede comunque dalla boccettina, che è abbastanza lattiginoso. Quindi poco coprente. Ed è veramente la colorazione che cercavo. Cioè, è proprio lei. Bellissima. Forse questa ha una tonalità di, scusate l'ambulanza. Ok. Ha una tonalità di, forse pesca in più, più de rosa. Quelli che ho visto io forse erano più rosati. Però, la colorazione è bellissima. Cioè, veramente bella. Anche lui, tisotropico, come vedete. Ragazzi, i tisotropici non si muovono. Non si muovono completamente, però si scaldano con il calore dell'unghia e del pennello, modellandoli. Diventano veramente una crema. Io spero che mi troverò bene con questi prodotti. Non vedo l'ora di utilizzarli. Saranno proprio i primi che testerò, quindi vi farò sapere. Poi ho preso, ho preso, ho preso una cosa veramente tanto bella. La vado ad aprire. Allora, anche lei era scontata. Allora. Un attimino che mi pulisco la spatola, così ve lo faccio vedere. Perché è un acryl gel. Allora, ho preso un acryl gel glitter. Si chiama Glitter Oro Silver Metal. Dal nome già, potevo non prenderlo. Ma mi conoscete, lo sapete come sono. E inoltre, sto amando ultimamente i costruttori, i acryl gel, comunque glitterati. Quindi, oddio. Allora. È abbastanza rigido. Però è normale, essendo, avendo il glitter. E questa è la colorazione. Io non so se lo vedete dal video. Bellissimo. E, ragazze, è pieno, 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 pieno di glitter. Grossi e piccoli. Mamma mia. Non vedo l'ora, anche lui, di utilizzarlo, ragazze. Guardate qua. Pazzesco. Vediamo se metto a fuoco. Ok. Pazzesco, ragazze. Cioè, io non vedo l'ora, veramente. E questo, allora, è piccolino. Perché è il 30 ml. Quindi è veramente piccolo. Però, alla fine, acryl gel glitter. Non è che ne faccio un uso spropositato, come gli altri. Quindi, l'ho voluto provare. L'ho trovato scontato. Se non sbaglio, 8 euro. Una cosa simile. Quindi, ovviamente, lo dovevo prendere. Poi, ho preso due colori. Allora, ho preso un colore della linea chic. Dei semipermanenti. È una linea di semipermanenti. Ho voluto prendere un colore bianco lattiginoso. Allora, mamma mia. Molto duro. Ok. Allora, è più che un bianco. Sì, un bianco sporco. Un panna. Però è semi coprente. Quindi, non è coprente del tutto. Io ho il bianco lattiginoso di Passione Unghie. Però, non è... Ecco, quello è più bianco. Io volevo un colore che assomigliasse più al panna. E questo, direi che, secondo me, si ci avvicina parecchio. È appunto semi coprente. Quindi, non copre. In realtà, è lattiginoso. E questa cosa mi incuriosisce. Anche lui lo proverò. E vi farò sapere. Mi hanno parlato, tra l'altro, benissimo di questi semi permanenti delle linee chic. Quindi, speriamo di trovarmi bene. Magari ne prenderò altri. Questo è il numero 334. È da 12 ml. Quindi, qualità e prezzo? Ottima. Questo sarebbe venuto sulle 7 euro. Poi ho preso in offerta un gel color. Perché? Allora, questi qua sono dei gel color della linea Lively. Io non so se li avete mai sentiti dire. Ma sono dei gel color, anche loro, anch'essi tisotropici. Ovvero, che non si muovono completamente. Sto cercando di aprirlo, così ve lo faccio vedere. Non si muovono completamente. Sono rigidi, però, quando li stendete sull'unghia, diventano morbidi. Allora, ragazze. Questa è la colorazione. È un bellissimo rosato. Come vedete, il colore non scende. Cioè, è fermo. Infatti, è perfettamente piano. Non si muove. Però, io mi sono preparata la mia tip. Vi faccio vedere steso sull'unghia. Diventa veramente morbidissimo. La colorazione mi piace tanto. Veramente tanto. Le ho voluti provare perché ho visto delle recensioni e sono davvero tanto coprenti. Siccome io preferisco fare delle passate abbastanza sottili, però con un colore molto coprente. Ormai non prediligo più quei semipermanenti, quei colori con più componente di gel che di colore. Il colore è bellissimo. Veramente tanto bello. Questa è la colorazione. Vi dico subito. Se c'è scritto. Sì, qua. Allora, è LV122. Ed è questo rosato. Bello, ragazze. Mi piace un sacco. E volendo potreste lasciare anche semplicemente una sola passata. Cosa che farò io dalla tip. È inutile che ne faccio due. Mi piace tantissimo. Veramente bello. Lo metto a catalizzare. Vedete se riesco a trovare la mia lampada. Ecco, mezzo al color abbiamo terminato. Poi passiamo alle ultime due cosine molto, molto, molto interessanti. Allora, ho preso questo kit, che è il kit Love Ink Painting Pen. Io l'ho visto sui social. Me ne sono completamente innamorata. Perché? Perché una ragazza che sicuramente conoscerete, Rita Di Perno, le ha fatti vedere in un video su Instagram, dove le utilizzava e creava dei fiorellini in simile acquarello, però in realtà è gel. Io amo la tecnica dell'acquarello, però mi viene ogni volta scomodo realizzare, anche perché devi far asciugare, quindi è un pochettino più lunga. Nel foro è uscito con questo Love Ink Painting Pen, anche Michelle Nels è uscito con questa novità. Anche perché, ragazze, che secondo me le aziende sono unite, non so, perché appunto i prodotti sono comunque molto simili tra di loro. Comunque, è un kit Love Ink Painting Pen da sei colori, ovvero il blu, il rosa, il rosso, il viola, il giallo e il verde. I colori, ecco, quelli che si utilizzano un po' di più. Come funzionano queste penne? Allora, hanno le loro ricariche, quindi qua c'è appunto del colore, e vanno inserite nella loro penna. Per esempio, qui vedete il blu, e uno va a inserire ovviamente il blu. Hanno queste setole, abbastanza rigide, però morbide allo stesso tempo, quindi non sono troppo dure. Ok, ragazze, allora, ho letto le istruzioni, ovviamente viene con il proprio libretto delle istruzioni. Si apre, allora, praticamente la penna esce così, no? Eccola qui, questa è la blu. Esce così, voi andate a... Ecco, aprire il beccuccio interno, e qui va inserita la ricarica della painting pen. Io non le ho provate, anche perché sono novità, quindi non ne ho idea di come potrebbero essere. Consigliano solo di essere veramente tanto veloci per fare le nail art, perché asciugano subito, ed è una cosa che per me è ottima. Le proverò, le proverò, magari fatemi sapere se volete vederle in un video insieme, in qualche nail art insieme, sicuramente vedrete su Instagram, anche perché le proverò oggi stesso, vedrete su Instagram qualche nail art con queste penne, quindi sono curiosissima. Fatemi sapere se vorreste un video sullo specifico. Poi, ultima cosina che ho preso, e sono contentissima di aver preso, è il poggia mani, fatto in questo modo, perché io ne avevo uno preso da Amazon, ma è veramente molto cheap, anche se finora ha fatto il suo dovere. Però questo è veramente fatto bene, è fatto benissimo, e l'ho trovato ad un prezzo ottimo, perché di solito costano questi tipi di poggia mani, costano dalle 70 in su, almeno, dove li ho visti io. Qui, nel foro, l'ho trovato a 39,90€, che è un ottimo prezzo. Io l'ho preso, c'era disponibile sia bianco che nero, e io l'ho preso bianco, anche perché ho tutta la postazione incrementata sul bianco, quindi ho voluto prendere il bianco. Allora, me lo aspettavo più piccolo, invece no, è veramente tanto grande, io non so se si capisce dal video, ma è veramente lungo, cioè, comodo, lo vedo comodo. Ovviamente esce con i suoi piedini, che si devono montare, io ora mi passerò il tempo, ovviamente le viti e anche il giravite. E, ragazzi, sono curiosissima, io ora lo monterò, e magari dopo vi aggiungo una clip dove l'ho montato e ve lo faccio vedere montato. Allora, perfetto. Ragazze, questo era tutto il mio bottino nel foro, fatemi sapere se volete vedere qualcosa di più, ecco, più nello specifico. Io sono contenta dei miei acquisti, mi piacciono tutti, non vedo l'ora di provare ogni singola cosa. Mi raccomando, vi invito nuovamente a seguirmi su Instagram, nel mio canale Instagram, su TikTok, perché sto realizzando tantissimi video molto carini. E quindi mi farebbe piacere se mi supportaste anche in questo social. Vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!